E uno, e due, e tre! Un grande bottone rosso schiacciato sul palco del Teatro Solvay di Rosignano al termine di una cerimonia a cui ha partecipato anche il Presidente della Regione Toscana per accendere simbolicamente la nuova centrale a turbogas dello stabilimento industriale Solvay. L'operazione di rinnovo è stata presentata nel corso di un talk show davanti a una folta platea di spettatori e rientra in un pacchetto di investimenti di circa 46 milioni di euro al quale hanno contribuito il Ministero dello Sviluppo Economico con 11 milioni e 200 mila euro e la Regione Toscana con 6 milioni in 10 anni. La nuova centrale Rosen permetterà di produrre tutto il vapore e l'energia necessaria alla produzione industriale di carbonato di sodio e derivati destinati sia al mercato italiano che all'esportazione. Il tutto con una riduzione delle emissioni di anidride carbonica nell'aria pari a mezzo milione di tonnellate all'anno. Un'operazione che, grazie a riduzione dei costi ed efficientamento energetico renderà ancora più competitivo il parco industriale di Rosignano anche per nuove aziende nei 37 ettari disponibili per i nuovi insediamenti e la Regione è stato spiegato e disponibile a fare in modo che le autorizzazioni a produrre siano concesse entro sei mesi dalla presentazione della domanda per far crescere ancora il polo industriale della costa toscana.